Il nostro elettorato non voterebbe mai Cracchi come Presidente della Repubblica così come molto probabilmente l'elettorato socialista non voterebbe mai per Occhetto mentre invece i democristiani voterebbero tutti per un democristiano e il presidenzialismo sarebbe soltanto un modo di lasciare al governo l'ADC Una trasversalità ai candidati di tutte le liste e si fossero impegnati sulle questioni vere, le pensioni, l'occupazione, il mezzogiorno d'Italia Io credo che le istituzioni debbono fare molto di più ma bisogna sostenere queste istituzioni perché le soluzioni non arrivano mai dall'alto le soluzioni arrivano nella misura in cui insieme le determiniamo Tanti auguri e tanti complimenti perché è un'emittente antica sceglie delle giornaliste giovani, è bello E' più simpatica Telenorbo o Telebari? E' uno di Bari che è nato con le tv private? Simpatica, non importante No, io sono psicologicamente, nostalgicamente, sentimentalmente, esageratamente legato a Telebari, alla prima Telebari, è stata la prima televisione che ha portato la televisione in piazza nelle case a Bari quindi la mia è una faziosità ragionata